Petrucci, su 57 carenze ne sono state assegnate solo 16, restano scoperte 41 per una popolazione di circa 30.000 assistiti. Come si risolve il problema? Il problema si sarebbe dovuto prevedere, risolvere prima, se la classe politica avesse dato ascolto ai gridi d'allarme che noi come sindacato FIMG, che è il sindacato più rappresentativo per i medici di medicina generale, stiamo denunciando non da mesi ma da anni la grossa pletora dei laureati in medicina che abbiamo avuto negli anni 80. Oggi, purtroppo per loro, ha raggiunto l'età della pensione e noi lo sapevamo da tempo. Dopo la pandemia molti, anziché aspettare il settentesimo anno di età, stanno anticipando, come gli è consentito, la pensione a 68 anni. La pandemia ha acuito la criticità. Ha anticipato di almeno due anni questo problema. Per poter avere il convenzionamento, per poter diventare medico di famiglia, devi, dopo la laurea, fare un corso di formazione triennale. Corsi di formazione che vengono finanziati e vengono istituiti a livello regionale. Quindi noi da anni stavamo dicendo ai nostri amministratori vecchi e nuovi della regione, formate più medici, altrimenti non saprete come fare per coprire queste carenze. Questo non è avvenuto. Oggi abbiamo 85 medici che stanno seguendo il corso triennale. Di questi 85, già parecchi sono stati convenzionati. Questo è il dramma. Quindi da oggi in poi questo problema aumenterà sempre di più, perché nel 2023 ci sarà un'ulteriore ondata di pensionamenti. Quindi la popolazione che si troverà senza medico sarà sempre maggiore. E il dramma qual è? Che la popolazione dell'interno, gli ospedali, doppioni e chieti a pescare a distanza di 13 chilometri, verranno ad avere un deficit di bilancio determinato anche e soprattutto dalla bolletta energetica. E allora qui bisogna prendere provvedimenti, altrimenti le risorse non ci saranno. E questo sarà l'inizio del nuovo commissariamento della regione Abruzzo. Sinteticamente c'è anche il problema delle guardie mediche. Anche le guardie mediche, perché su 43 ne sono state assegnate solo 4. Quindi significa che ci sono 39 postazioni di guardia medica carenti di personale.